e poi parleremo di questo protagonista e di come l'ha filmato e di come lui si è lasciato filmare insomma tutto ciò che si fa in un quale innanzitutto grazie al festival dell'occasione che per me è un grande onore essere qua in realtà vorrei dire pochissimo del film e lasciare che appunto ci sia che diciamo dalla visione ognuno tragga le conseguenze anche al personaggio e soprattutto la storia narrata niente in realtà io vi augurerei buona proiezione buona visione e buon viaggio e grazie di essere venuti qua ci sono tanti amici tanti collaboratori grazie a tutti grazie a tutti